No ai tagli per l'indennità di malattia, chiediamo il diritto alla salute. Il grido d'allarme arriva dai marittimi di Tore del Greco che questa mattina hanno protestato all'esterno dei locali della Cassa Marittima in via Cesare Battisti. Al fianco dei lavoratori del mare, i rappresentanti sindacali dell'Orsa Marittimi, che ai microfoni di TV City hanno spiegato i motivi della mobilitazione. Siamo in piazza a manifestare che la nuova finanziaria del 2024, lo Stato con una circolare, con una legge anche di Stato, ha decurtato l'indennità ai lavoratori da 75 al 60%, però noi abbiamo valutato in tutti questi mesi che la decurtazione è scesa ultimamente al 40%. Quindi i lavoratori stanno in difficoltà per avere il ricalcolo devono aspettare 90 giorni, ogni mese l'IMP si eroga 22 euro al giorno per un mese, sono 600 euro, quindi molte famiglie stanno in difficoltà. La beffa è pure questa poi, che il lavoratore per avere il ricalcolo deve aspettare 90 giorni, quindi va alla fame proprio totale. Mi sembra che lo Stato è orientato più a dare lavoro agli extracomunitari che i nostri lavoratori che pagano le tasse. Non siamo razzisti, vogliamo anche che questi uomini lavorano come noi, però che ci sia un equilibrio chiaro per gli imbarchi degli italiani e degli extracomunitari. Allora il mio appello allo Stato, agli armatori, di considerare bene le cose, perché questo lavoratore, essendo un lavoratore atipico, ha il diritto a curarsi, il diritto alla salute. Allora questa considerazione lo Stato la deve fare, deve prendersi il carico di questi lavoratori e dargli una giusta misura di assunzione e il diritto alla salute. Ero in malattia, il secondo ciclo di certificato, la dottoressa mi ha segnato una resonanza magnetica, sono andato in centro e mi è costata 100 euro, però in questo caso ho mancanza di soldi di 100 euro, ho fatto mancanza a farmi questa resonanza magnetica, ho chiuso cassa marittima, in questo caso il 19 dovevo rimbarcare e ho preso anche l'imbarco, in questo caso siamo proprio in balia delle onde, non ce la faccio più. Mancando le risorse ai marittimi c'è una perdita economica per tutta la città, questo lo dico a voce forte per tutti i cittadini, uniamoci e sosteniamo questa categoria perché ne vale la pena, la riguarda tutti.